no per me è un gigantesco no ragazzi benvenuti in questo nuovo video però direi che è il caso di affrontare l'argomento fin dal principio Roberto Donadoni allora il nome di Roberto Donadoni circola all'interno degli ambienti rossoneri già da qualche settimana ma ieri sera Michele Crescitiello l'ha fatto diventare incredibilmente d'attualità all'interno della sua trasmissione Sport Italia Mercato infatti Crescitiello ha svelato questi incredibili retroscena di un Leonardo che starebbe facendo delle manovre molto da spy story per spodestare Rino Gattuso fino a questo momento fino ad ora ci diciamo in quello che ho detto non ci troverete niente di particolarmente strano io è da agosto che vi dico che tra Leonardo e Gattuso non corre buon sangue e vi avevo già detto che al minimo risultato negativo Leonardo sarebbe tornato alla carica contro Gattuso la cosa più incredibile però qual è stavolta Crescitiello ci racconta di una scena che si sarebbe svolta con la presenza di Leonardo Branchini che sarebbe il procuratore di Roberto Donadoni e udite udite Riccardo Montolivo voi vi direte che ma perché Montolivo perché Montolivo sarebbe guidando all'interno dello spogliatoio del Milan questa fronda contro Gattuso Montolivo sapete tutti che con Gattuso non gioca più e secondo questa ricostruzione sarebbe lui diciamo il primo all'interno dello spogliatoio a essere contro Gattuso e sarebbe anche quella famosa spia di cui Gattuso parlava in conferenza cosa c'è di vero in tutto questo non lo non lo so mi sembra una ricostruzione abbastanza complicata mettiamola così però un fondo di verità c'è il fondo di verità è che Gattuso non gode della fiducia di Leonardo e secondo me il punto focale della questione allenatore Milan è proprio questo cambiare tanto per cambiare ragazzi non serve a niente qui non è la bravura dell'allenatore il problema qui il problema è il progetto il modo con cui si fanno le scelte il Milan ha bisogno di avere non un allenatore bravo non un allenatore top il Milan ha bisogno di avere un allenatore che goda della più completa fiducia della società Gattuso l'anno scorso ha fatto bene perché perché godeva della piena fiducia di Mirabelli Gattuso perché adesso sta facendo male perché non gode della fiducia di Leonardo Montella ha fatto male perché oltre a non essere un grande allenatore cioè ma perché Montella sapeva fin dall'inizio che su quella panchina non sarebbe durato e se un allenatore sa di avere i giorni contati non dura non dura è impossibile andare avanti in questo modo non è più una questione di moduli una questione di tattiche ragazzi il Milan in questo momento purtroppo è in una fase di stallo perenne e quello il problema è se aggiungiamo il fatto che la squadra non è di livello altissimo il disastro è inevitabile il Milan ha bisogno per come la vedo io di certezze personalmente non reputo Donadoni un allenatore eccezionale chiaramente io su Twitter esagero sempre quando parlo però alla fine Donadoni secondo me non è malissimo è un allenatore che per una squadra di medio e bassa classifica fa bene in un Milan sarebbe tutto da valutare però però quello che dico io è se devono mettere Donadoni su quella panchina devono essere veramente convinti che il futuro del Milan sia lui perché mettere in panchina un altro tra virgolette traghettatore uno che ci porta chissà dove non ha senso il Milan ha bisogno di stabilità ha bisogno di sicurezze e l'allenatore del Milan ha il bisogno qualsiasi esso sia ha bisogno di lavorare in santa pace perché già ci perché già noi tifosi ci mettiamo il carico da 90 a ogni sconfitta che vogliamo la testa dell'allenatore dell'allenatore scusate ma sei primi a volere la testa dell'allenatore sono i dirigenti capite che non possiamo andare da nessuna parte purtroppo mentre ragazzi questo è il mio pensiero sulla situazione allenatore del Milan al momento che dire fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto con un commento noi ci vediamo in un prossimo video